Benvenuti oggi siamo a Collegno e più precisamente via Vittorio Veneto al numero 19 se cercate casa e la desiderate in una piccola palazzina magari di recente costruzione seguitemi L'appartamento si trova in una palazzina edificata nel 2004 di sole 6 unità abitative noi ci troviamo al secondo e ultimo piano con ascensore ed è composto da ingressolini nella sala cucina abitabile, due camera da letto, una più grande e una più piccola, i doppi servizi ma soprattutto il ripostiglio che nelle case recenti non si trova mai un balcone e un terrazzino dal quale si accede dalla zona giorno da questo lato trovate la camera matrimoniale e da quest'altro la cameretta Musica Accessore della casa, il riscaldamento più autonomo con caldaglia nuova a condensazione climatizzatore, tende sole, zanzariere, basket al massaggio, antifurto volumetrico e perimetrale e la possibilità di acquistare anche il box auto a parte la richiesta 194.000 euro contattami se vuoi visitarla Musica Musica Musica